Buongiorno, benvenuti nel mio canale amici di YouTube, rossoneri e rivali. Ieri da Roma stacca il biglietto per la finalissima tirana contro il Feyenoord della Conference League. Quindi gli uomini di Murigno arrivano in fondo a una competizione molto molto importante, soprattutto per il ranking FIFA italiano. Finalmente una squadra italiana, dopo tanti anni, ritorna a giocare una finale europea. Questa è una cosa molto molto importante, ripeto, per il nostro calcio. Sono molto contento perché le squadre italiane veramente peccano tantissimo rispetto alle altre e sono davvero tantissimo indietro. E questo sicuramente non va bene. Come vi ho detto tantissime volte, il signor Gravina pensa se rimane Mancini o no, ma del resto non gliene frega una beata mazza. E infatti i risultati si vedono non solo a livello di nazionale, ma purtroppo a livello europeo anche di club. Questo è un dato di fatto che purtroppo ci portiamo avanti da un po'. Ragazzi ci vediamo più tardi per nuove news, mi raccomando seguitemi, mettete mi piace sui video, iscrivetevi al mio canale, Instagram, clic clic clic, Facebook, tutto maiuscolo, Milano e basta, clic clic clic, ci vediamo più tardi, forza vecchio cuore, Rosso Nero.